non sono stati i giorni facili per me non sono stati i giorni facili per per associazione evidentemente sono stati giorni molto difficili per la mia famiglia in particolare io quando ero quando sono stato portato via di casa mia moglie era all'estero e i bambini erano a scuola quindi non c'era anche la preoccupazione di chi andasse a prendere la scuola però l'idea che qualcuno possa essere portato via di casa e con l'altro genitore quando c'è perché in caso nostro c'è ma qualche volta non c'è non informato con i bambini che rimangono a scuola per me è un abuso assoluto non tanto dei miei diritti ma diretti infanzia